Le situazioni impegnative della vita di tutti i giorni possono danneggiare i tessuti e le cellule. Adesso c'è una soluzione a tutto. Terapia Indiba. Come funziona? Indiba attiva e promuove i meccanismi naturali di riparazione e rigenerazione del corpo. Funziona con una tecnologia elettrica e termica unica a 448 kHz, sicura e non invasiva. Questa energia viene trasmessa al corpo con degli elettrodi che lavorano in circuito chiuso con due modalità. La prima è la modalità capacitiva, che agisce sugli strati superficiali della pelle. E la seconda è la modalità resistiva, che va più in profondità e agisce sui tessuti più resistenti, come ossa, cicatrici o tessuti fibrotici a un livello più profondo utilizzando un'elevata resistenza elettrica. La radiofrequenza standard genera calore e causa della resistenza dei tessuti alla corrente. Questo è noto come effetto Joule, che può portare a aumento della circolazione sanguigna, dell'ossigeno e di altri nutrienti essenziali per la fisiologia cellulare, aumento del drenaggio linfatico e, inoltre, effetti antalgici e antinfiammatori, miglioramento della flessibilità e dell'elasticità dei tessuti e miglioramento della funzionalità muscolare. Ma Indiba fa ancora di più, con il suo duplice effetto elettrico e termico. La corrente a 448 kHz promuove un effetto riparatore e rigenerante anche senza l'utilizzo della temperatura. Questo effetto è detto subtermico. La corrente innesca una serie di reazioni coinvolte nel mantenimento dell'equilibrio cellulare e promuove i processi chiave nella riparazione cellulare e nella rigenerazione tessutale, a seconda del tipo di tessuto. Altri effetti di Indiba includono aumento della replicazione di fibroblasti, cheratinociti, osteociti, aumento della sintesi di collagene ed elastina, aumento del metabolismo cellulare, miglioramento della velocità e della qualità della cicatrizzazione e maggior riassorbimento di edemi ed ematomi. Con Indiba potrai realizzare trattamenti sia in fase acuta sia subacuta, creando nuove opportunità terapeutiche per moltissime patologie. Migliorando la qualità delle cellule ed i tessuti viene favorito il recupero funzionale. Con la combinazione delle due azioni elettrica e termica nel trattamento di un'area, viene promossa una corretta rigenerazione dei tessuti e il miglioramento della funzionalità sistemica alterata. Il risultato sarà un tessuto sano, funzionale e revitalizzato. Il tutto in un modo efficace, testato e sicuro. Indiba. Revitalizing Lives.